Assessore Riccardi, siamo qui oggi chiamati dalla Confapicuneo per porre sul tavolo del dialogo un tema scottante di questi ultimi periodi, che è questo Green Pass a cui adesso tutte le aziende, piccole, medie e grandissime, devono adeguarsi. Quali le novità su questo fronte? Guardi, ho incontrato proprio ieri il Ministro, abbiamo parlato e anche con le competenze della regione di Commissione Salute, insomma stiamo proponendo una serie di temi perché oggi il decreto dice che gli imprenditori sono obbligati a controllare, devono avere un sistema efficace, c'è la sanzione, definire bene qual è il sistema efficace, definire qual è il campione, perché sono più stretti e obbligati a fare dei campioni, dei controlli campioni, definire anche quali i fornitori, quali i dipendenti, anche i fornitori, definire anche sotto proprio della privacy, quali sono le possibilità del datore di lavoro, alcuni ipotizzano anche un terzo progetto, insomma ci sono molte questioni aperte e oggi chiederò al Presidente proprio di far confluire presso i nostri uffici, presso i nostri dirigenti, le perplessità, i dubbi, le domande che noi porremo ai nostri tecnici, porremo alla conferenza delle regioni, in modo che possano essere resi in carico dal Ministero per avere una circolare, per avere una uniforme su tutto il territorio che fughi ogni dubbio e permetta anche alle nostre imprese di lavorare in questo senso. Grazie per la visione!